Una denuncia integrativa a quella depositata il 29 novembre del 2019 è stata inoltrata a titolo personale dagli avvocati di Gianluca Tanda alla procura della Repubblica di Pescara. La denuncia è stata presentata per avviare indagini supplettive e nuove iscrizioni sul registro degli indagati per quanto riguarda il filone bis, quello del depistaggio con lo scopo di fare luce ancora di più su quanto accaduto appena nel posto di coordinamento avanzato il 18 gennaio 2017 quando a Rigopiano si consumava la tragedia. Il fascicolo presentato dagli avvocati di Tanda, Romolo e Massimo Reboa ripercorre passo dopo passo le concitazioni di quel momento e le indagini seguenti chiedendo che il caso d'Angelo venga inserito in tutto il patrimonio delle indagini e non solo nel fascicolo madre. Per questo Gianluca Tanda chiede alla procura della Repubblica di procedere alla integrazione delle indagini con riferimento alla posizione dei componenti del posto di coordinamento avanzato e dunque il capitano Alessandro Albano all'epoca capitano della compagnia dei carabinieri di Penne, i geometri Antonio della Rovere e Carmine Ricca e al maresciallo Matteo Cameli. Troppe anomalie per arrendersi alla giustificazione della negligenza, commenta Gianluca Tanda, la riunione nello stanzino delle acque minerali, la notazione della chiamata di D'Angelo, la notazione del maresciallo Cameli, del comitato coordinamento soccorsi, i tabulati telefonici sul cellulare di Gabriele D'Angelo, il posto di coordinamento avanzato, continua Tanda, sono concatenate tra loro e condividono un periodo temporale degli accadimenti compreso tra il 18 gennaio 2017 e il 3 aprile 2017. Nei 75 giorni successivi alla tragedia si consumano negligenze, omissioni, occultamenti, depistaggi, tutti nel nome di Gabriele D'Angelo. Ogni circostanza assume singolarmente un valore del fatto in sé, ma sicuramente limitato rispetto alla portata complessiva della concatenazione logico-razionale dei fatti. Gli accadimenti devono essere legati e valutati insieme. Il caso D'Angelo rileva e come, chiude Gianluca Tanda.